Perché l'utile è necessario, diciamo che è auspicabile, ma non è sufficiente. Ci siamo detti che quell'utile magari è generato da ricavi eccessivi a fronte di quali sono iscritti dei crediti che poi vedremo magari non essere completamente incassabili. Quindi l'utile è una grandezza importante, è una grandezza necessaria, ma di per sé non sufficiente. Si muore di finanza, si muore di cassa. Quindi non valutiamo lo stato di salute dall'utile. Perché tu puoi essere più bravo del mondo a vendere, a calcolare dei buoni margini, ma nel momento in cui hai un creditore che ti paga a lungo, tu devi far fronte a dei costi correnti. Il personale è il primo. Se non hai qualcuno che ti aiuta a coprire quel gap, quindi ti finanza un istituto finanziario o una banca, hai un problema, rischi di fallire.